Oggi siamo qua a inaugurare questo red carpet tra Riva e Santo Stefano, uno dei più lunghi della Liguria sicuramente, unisce due paesi storicamente turistici, unisce due borghi sul mare bellissimi che rappresentano un po' l'unità dei nostri territori come vuole rappresentare il red carpet. Il red carpet non è un'opera pubblica, non è un'infrastruttura, è solo un modo per promozionare la nostra bellissima Liguria e tutti i borghi che si affacciano sul mare o che stanno nell'introtella della nostra bella Liguria. Il red carpet significa che la Liguria e i sindaci che lo hanno ospitato, come tutti i sindaci della nostra Liguria, vedono nel turista un VIP, una persona importante che ha scelto di venire a passare le vacanze sul nostro territorio. Il set cinematografico e la scenografia sono i bellissimi posti della nostra Liguria e la storia di questo film che i turisti girano è la loro vacanza, con la speranza che una volta tornati a casa si portino appunto il ricordo della Liguria come quello di un bel film. Con gioia che abbiamo approfittato di questa ottima proposta della regione per aumentare l'attrattività dei nostri borghi marinari che quest'anno hanno un ulteriore elemento per far considerare i propri ospiti, i propri graditi ospiti e i propri residenti persone veramente importanti perché questo fa crescere anche l'autostima per tutti quelli che vivono parte dell'anno o tutto l'anno questi bellissimi borghi marinari. Potremmo dire un'estate col botti, i fuochi d'artificio hanno fatto da cornice a questa inaugurazione, siamo molto contenti di poter ospitare il red carpet, ma siamo soprattutto contenti dell'attenzione che l'amministrazione regionale ha avuto per i territori di Riva Liguria e Santo Stefano al mare. È un obiettivo quello che è sempre fissato alla regione, ovvero di rendere come delle stare i nostri turisti che condividiamo, crediamo che l'accoglienza e l'ospitalità debbano essere principi fondamentali per le località che si affacciano sul mare quali sono le nostre, dobbiamo fare in modo di fare sistema e questo è un buon esempio e un buon punto di partenza. Certamente c'è ancora tanto da lavorare, ma bisogna anche essere onesti nel dire quando arrivano dei risultati, che i risultati iniziano ad arrivare. Questa sera abbiamo dimostrato che l'Unione fa davvero la forza e mi auguro che sia l'inizio di una proficua collaborazione, soprattutto perché abbiamo deciso questo punto per inaugurare il red carpet, perché prossimamente la regione Liguria ha anche finanziato questo tratto per una nuova passeggiata a mare che completterà il collegamento tra Riva Liguria e Santo Stefano. Quindi è anche un doppio annuncio quello che facciamo, ovvero che finalmente Riva Liguria e Santo Stefano saranno uniti definitivamente da una passeggiata a mare grazie a un sostanzioso contributo regionale. Quindi oltre ad unire la festa, questa sera usiamo anche una cosa pratica, ovvero una passeggiata da tanto tempo attesa e da tanto tempo invocata da tutti.